Sono un insegnante dei servizi accoglienza turistica dell'istituto alberghiero Ricometti e di Mieste. Abbiamo tre laboratori di front office, uno è questo qui, poi abbiamo l'altro al piano superiore e l'altro al convitto. I ragazzi svolgono attività di accoglienza sia al front office che nel back office. Quindi vi aspettiamo tutti il giorno 18 e 19 di gennaio per la giornata dell'orientamento. E sono gli studenti dell'istituto alberghiero Enrico Mattei che festeggia quest'anno 50 anni di attività. Bravi ragazzi! Grazie!